Da Firenze a Mosca per uno spazio dedicato alla Fondazione Rumualdo del Bianco e all'insegnamento delle buone pratiche Life Beyond Tourism. Una sala intitolata alla Fondazione Fiorentina, all'interno della prestigiosa Biblioteca Statale Russa di letteratura straniera che rappresenta il primo caso di adozione tangibile di teorie e pratica di Life Beyond Tourism all'estero, l'orientamento teso alla conoscenza fra culture. Andiamo a Mosca a insegnare la gestione dei flussi turistici, cioè la Biblioteca Statale Rudomino ha deciso di fare proprio gli insegnamenti della Fondazione con la sua filosofia Life Beyond Tourism, ovvero un mondo di opportunità ben oltre il turismo dei servizi e dei consumi per poter iniziare a fare del viaggio un momento di scambio fra culture. L'evento è stato presentato a Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana, alla presenza del Presidente dell'Assemblea Toscana Eugenio Gianni. Il fatto che la Biblioteca Internazionale di Mosca, oltre i suoi 8 milioni di volumi, oltre che essere punto di riferimento nel mondo, abbia voluto intitolare una sala alla Fondazione Romualdo del Bianco è qualcosa per il ruolo che svolge di sussidiarietà con le istituzioni. Questa fondazione che anima relazioni internazionali e sviluppo culturale delle stesse in tutto il mondo è un motivo di onore per la Toscana, per Firenze, per tutta l'Italia.